Prima udienza al Tribunale di Pescara per il caso del risarcimento chiesto dal Governatore D'Alfonso al Consigliere regionale Domenico Pettinari. Il caso è quello dell'edificio dell'Asl di Via Rigopiano, che già tante polemiche aveva suscitato. Domenico Pettinari, circondato da sostenitori e colleghi, non mostra debolezze. Piena fiducia nella magistratura, come ho sempre avuto nella mia vita. Il Presidente D'Alfonso, ricordo che in aula ha detto che è la prima volta in vita sua che era stato costretto a citare in giudizio un avversario politico. Sono contento e soddisfatto per i grandi attestati di stima e di fiducia, di solidarietà da parte dei cittadini. Oggi qui ci sono decine e decine di cittadini, questo mi fa piacere e nulla, aspettiamo il verdetto della magistratura. A difendere il grillino è l'avvocato Donatella Rossi. Il Governatore D'Alfonso invece si è affidato a Carla Tiboni. La prima udienza finisce con un rinvio al 3 maggio per ammissione dei mezzi istruttori. A sostenere in aula Domenico Pettinari c'è anche la consigliera regionale Sara Marcozzi, che commenta così l'azione legale messa in campo dal Governatore D'Alfonso. Il Movimento 5 Stelle pensa che questo è il Presidente di Regione più debole della storia d'Abruzzo. Se un Presidente di Regione non è in grado di rispondere alle domande che un consigliere regionale fa nello svolgimento delle sue funzioni e prerogative ed è costretto a ricorrere alle aule di un tribunale, questo è solo un segno di grande debolezza del Presidente D'Alfonso e o di grande forza del Movimento 5 Stelle, che evidentemente è l'unica vera opposizione mai esistita. Quella che ha fatto Pettinari è una domanda che si sarebbero fatti tutti i cittadini. E' una domanda legittima perché se un palazzo è stato acquistato due anni fa a 900.000 euro, la Regione Abruzzo lo ha acquistato a 3 milioni di euro. I cittadini se la sarebbero fatta questa domanda.